Esordio ufficiale in maglia granata per te che vieni dalla primavera, la domanda è scontata, quale emozione hai provato? È stata un'emozione unica, quando il mister mi ha detto dove vuoi entrare, a destra e a sinistra, ho detto indifferente perché non vedevo l'ora di entrare e fare l'esordio finalmente in maglia granata, dove sono ben cinque anni che ce l'ho stampata sul petto. Hai partecipato a tutto il ritiro, hai conosciuto i tuoi nuovi compagni, quali sono le tue sensazioni su questo gruppo? Sì, siamo un ottimo gruppo, siamo una grande squadra, spero che quest'anno come tutti sanno vogliamo mirare almeno i playoff.